Buonasera a tutti amici Nexus Lab, sono Alessandro Bertolo e qua davanti a voi avete i due prodotti attualmente top di gamma in casa LG, il LG G2 e l'LG G Flex, due smartphone phablet con storie completamente diverse anche se hanno caratteristiche estremamente simili abbiamo infatti uno smartphone da 5.2 pollici con un display full HD, poi invece abbiamo più un esperimento, non un vero prodotto commerciale almeno inizialmente, un phablet da 6 pollici curvo, come potete vedere si denota parecchio il profilo ricurvo del G Flex che invece sul G2 non troviamo con una classica invece struttura piatta. Oltre questo, oltre il fatto di essere curvi, ormai il G Flex è arrivato ad un prezzo più commerciale, siamo sui 450 euro, quasi e dico quasi paragonabile al G2, quindi essendo device simili dello stesso produttore ci sembra il caso di confrontarli, visto che sia a livello software che a livello hardware hanno molti punti in comune. Prima di tutto infatti hanno un design che tolta il profilo curvo ci mostra una parte anteriore e una cornice completamente libera da tasti, ormai è una caratteristica di quasi tutti i prodotti LG, caratteristica che forse in parte verrà ridimensionata in futuro e troviamo questa componente dietro con questi tre tasti fisici che viene proposta in tutti e due i prodotti. Con un design diverso abbiamo infatti questo piccolo puntino che aiuta sul G Flex, puntino profilo che aiuta ad individuare il pulsante, mentre abbiamo questa forse più elegante come design ma meno sensibile al tatto, pulsante completamente piatto. Per il resto sono molto molto simili, a livello ergonomico sicuramente è leggermente meglio il G2 soprattutto perché è più stretto, è più leggero, 140 grammi contro un 100, quasi 180, si fanno sentire alla lunga. Poi questo essere curvo aiuta in alcuni casi ma in altri casi invece ci porta ad avere delle difficoltà a livello di ergonomia. Per il resto vi sblocco i telefoni, entrambi si possono sbloccare con la funzione KNOCK, doppio tap sul display e possiamo sbloccarli, doppio tap anche qua. Come potete vedere schermato di sblocco leggermente diversa, tema preimpostato leggermente diverso. Vi imposto il medesimo tema su tutti e due, la medesima foto su tutti e due i dispositivi. Vediamo di trovarla, sfondi normali, mettiamo lo sfondo standard e mettiamo anche qua il medesimo tema. Qua dobbiamo cambiare anche il tema, se non cambiamo il tema non riusciamo a trovare quel medesimo sfondo. Ok, abbiamo ora in questo momento luminosità al massimo in tutte e due display, come potete vedere luminosità molto diversa, sono tutte e due display, questo è un stile OLED, questo è un IPS. La differenza di luminosità si vede e soprattutto si vede una differenza di risoluzione nettissima. Adesso vi metto a confronto le due icone del telefono, scusate ma ho schiacciato qualcosa, ok. Metto a confronto le due icone del telefono, si vede tantissimo il fatto che quella del G2 è molto ma molto più risoluta rispetto a quella del G Flex. Qua abbiamo infatti su un 6 pollici spalmati 1280x720 pixel, qua su un 5.2 ne abbiamo 1920x1080, quindi una risoluzione notevolmente superiore. Altra differenza, allora a livello di prestazioni siamo più o meno identici, quindi non mi focalizzerò troppo sulle prestazioni della navigazione o di altri aspetti più marginali, visto che in entrambi i casi abbiamo degli Snapdragon 800, spinti peraltro alla medesima frequenza, quindi non ha particolare senso metterli a confronto in questo caso. Provo solo a aprirvi un articolo, il medesimo, per vedere più o meno la velocità di rendering dei due telefoni che sarà, vi assicuro, già molto simile. Aspettiamo che carichi completamente sul G2 in modo da avere una medesima situazione, è un po' lento, in questo caso probabilmente la nostra connessione di wifi che è un po' lenta. ok, aspettiamo ancora un attimo, anzi facciamo così e avviamo la navigazione. Allora, leggermente in vantaggio il G Flex, ma vi assicuro che su più prove la navigazione più o meno è la medesima. Ci focalizziamo ancora sul testo, testo che riporta anche qua delle differenze a livello di risoluzione, come potete vedere i pixel sono molto più visibili nel G Flex, cosa che si denota un occhio più attento, soprattutto se venite da uno smartphone full HD e passare al G Flex ve ne accorgerete in maniera abbastanza rapida. Altra differenza è la batteria, batteria più grande nel G Flex da 3.2 rispetto ai 3.000 mAh del G2, ma dura di più nel G2. Leggermente, forse la differenza è talmente minima che si possono praticamente paragonare. Qua abbiamo meno pixel ma un display più grosso, con una batteria leggermente superiore, qua abbiamo più pixel ma su un display più piccolo. Quindi, che dire, prestazioni più o meno paragonabili. Per cosa si fa apprezzare questo G Flex? Per esempio Q Slide è più usabile in G Flex, grazie soprattutto alle maggiori dimensioni. Come potete vedere, utilizzare sul G Flex la medesima più o meno proporzionata questa funzione risulta estremamente più comodo. Come potete vedere, anche se il G2, comunque, la funzione Q Slide risulta assolutamente fruibile. Altra feature che vi volevo mostrare, feature più che altro caratteristica, è la differenza della fotocamera. Fotocamera, scusate, che risulta leggermente secondo me superiore nel G2, anzi più che leggermente sensibilmente. Potrete vedere anche i nostri, scusate ma è partito un video. Così, tanto per. Differenza che soprattutto nelle foto al buio si denota. Fotocamera, apriamone in tutti e due casi. Ok, prendiamo il nostro Nexus e facciamo tutto in casa LG, in questo caso. Abbiamo la fotocamera frontale, mettiamo sulla posteriore, facciamo la foto. Togliamo il flash, scusate. Ok, la facciamo anche col G Flex. Stesse impostazioni. Le mettiamo a confronto. Allora, come potete vedere, cambia cambia anche leggermente sul bilanciamento del bianco, più ureale, soprattutto come potete vedere il tappetino verde. Adesso ve lo mostro più nel dettaglio. Questo è il tappetino verde del G2. Come potete vedere piuttosto dettagliato, con colori piuttosto nitidi. Mentre nel G Flex abbiamo un po' più sporca l'immagine, un po' meno nitida e soprattutto abbiamo dei colori non reali, leggermente sfasati. Comunque niente di grave, è assolutamente molto buona anche la fotocamera del G Flex. Volevo mostrarvi un'ultima cosa a livello di test solito nostro. Andiamo sulla nostra cartella di test. Sblocchiamo. E andiamo anche qua sulla nostra cartella di test. Volevo sì a farvi sentire l'audio, in entrambi i casi molto buono, dall'autoparlante di sistema. nexus lab test. Iniziamo con il G2. Ok, questo è il G2. Passiamo al G Flex. Allora, qualitativamente leggermente superiore il G2, a livello di potenza superiore il G Flex, come avrete potuto anche appurare voi stessi dal video. Partiamo subito invece con il nostro video in full HD. Cercherò di farveli, di mostrarveli in contemporanea a tutti e due. Anche se questa è un'operazione non è mai facile, ve lo assicuro. Un attimino. Quasi ci siamo. bello. Grazie a tutti Ok, spero abbiate apprezzato il video, comunque si è vista un po' la risoluzione superiore nel G2 Anche se a livello di video non si denota più di tanto la differenza di qualità E' più a livello di interfaccia proprio che si denota come di interfaccia di testi una maggiore risoluzione del display Per il resto il G Flex rimane comunque un esperimento, un esperimento che sembra in parte riuscito Mentre il G2 è un prodotto bello finito, completo in tutto e per tutto Se dovessi darvi un consiglio punterei ancora sul G2 Se invece volete qualcosa di particolare da mostrare agli amici e da dimensioni veramente generose Il G Flex è una buona alternativa Anche se dovrete rinunciare a quella risoluzione Full HD di cui ormai ci siamo abituati nell'ultimo anno Se avete domande utilizzate i commenti o di Youtube o dell'articolo su Nexus Lab All'articolo risponderemo assolutamente in tempi più rapidi Un saluto da Alessandro per Nexus Lab